Buongiorno lettori e benvenuti a questa nuova puntata molto in ritardo, lo so, sono molto in ritardo di Fat You Read, la TBR della bottega del giallo del mese di luglio anche se mo' il mese di luglio è quasi a metà, sono arrivato tardi anche qui vabbè, non vi sto a raccontare il mese di giugno perché è stato un mese da mettersi la mano ai capelli a tal punto che li ho rasati perché così almeno non ho più capelli da mettermi le mani dentro allora, è stato un mese pesantissimo, non vi dico che la maggior parte delle letture che dovevo fare che mi ero precisato di fare sono ritornate caldamente in libreria ne ho portata solo una con me in questo mese perché assolutamente ero curiosissimo di leggerla e vabbè, non vi sto qua a tediare con tutto quello che è successo ma guardate ragazzi, veramente un mese speriamo che sia finito e speriamo che questo mese di luglio ci porti delle belle novità intanto prima di dare la sigla vi ricordo di iscrivervi al nostro canale seguirci su instagram, seguirci sul nostro sito www.labottegadelgiallo.com iscriversi a youtube, commentare i nostri video a voi non costa niente, a me mi fate un grandissimo piacere e chi non vuole farmi piacere quindi dopo questo momento promo do il via alla sigla e ci vediamo subito dopo mese di luglio, mese di luglio, luglio col bene che ti voglio e io ti voglio tanto bene caro luglio perché sei il predecessore del mese di agosto che significa vacanze, vacanze, mare, lago, montagna, collina, docazzole, dannate basta che fate le vacanze divertitevi, rilassatevi, fate tutto quello che volete ma soprattutto durante questo mese di agosto leggete, leggete, leggete e magari leggete anche qualcosa che io leggerò nel mese di luglio ma che voi potrete leggere nel mese di agosto o che avete già letto quindi se volete lasciare nel commento una frase per dirmi sì l'abbiamo letto, è una chiavica no l'abbiamo letto, è bellissimo, vai avanti, non finire potete farlo siete i libri se mi fanno anzi mi fa molto piacere se finalmente parlo con voi perché mi sento tanto tanto solo allora partiamo dal primo romanzo che arriva dalla TBR di giugno me lo sono portato appresso perché mi incuriosisce tantissimo intanto sforzo di qua il malloppone e si parla di lui, di Pietro Caliceti con Vatican Tabloid allora la storia ve l'avevo già su per giù raccontata della TBR di giugno ma per chi se la fosse persa, spero di no ve la ripeto velocemente allora siamo in un'epoca abbastanza futura è arrivato un nuovo papa, si chiama Hamilton Warren Hamilton è appena salito al sogno pontificio e a pochi giorni dal giubileo si vede recapitare una lettera anonima dove contengono delle minacce di morte per lui nello stesso momento all'annunziatura apostolica stanno effettuando dei lavori e nello scavo di questi lavori vengono ritrovate delle ossa umane è così che nel secondo thriller perché la prima era l'opzione di Dio poi ce ne sarà un terzo questo Vatican Tabloid è il secondo di questa trilogia di Pietro Caliceti si intreccia la fiction ideata da Pietro Caliceti alla realtà a un caso irrisolto italiano di cui ancora oggi dopo 40 anni le circostanze sono ancora oscure sta tornando appunto adesso alla ribalta anche in televisione perché appunto sono come dicevo prima sono 40 anni si stia parlando in questo romanzo appunto della sparizione della famosissima ormai Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori sono due adolescenti che sono scomparse nel 1983 appunto a Roma in circostanze molto molto sospette io se andate su TikTok se andate su YouTube trovate già negli shorts le mie prime 100 pagine di questo romanzo veramente ben scritto posso dirvi che mi sta veramente prendendo e sono sicuro di portarlo a termine e sentirete presto la recensione comunque poi ne parleremo approfonditamente sul sito e anche sui nostri canali social secondo romanzo che leggerò nel mese di luglio e lo devo cercare è un romanzo molto particolare anche qui si parla di adolescenza deve essere una tematica abbastanza vacanziera diciamo e sto parlando appunto della Laguna dei sogni sbagliati di Massimiliano Scudeletti edito da Arcadia allora siamo a Venezia sono gli anni 90 e l'adolescente Alessandro Onofri orfano di tutti e due i genitori si trova a vivere con un'eccentrica zia abbastanza vicina al mondo esoterico un po' particolare diciamo la zia la vita di Alessandro sembra scorrere in maniera abbastanza tranquillo però questa vita inizia a doversi incontrare e scontrare appunto con l'esoterismo lo fa anche in una maniera abbastanza pesante a tal punto che la zia deve essere lei a cercare di salvare questo ragazzo dalla condizione in cui si è trovato non riesco a capire me l'hanno caldeggiato un ufficio stampa questo romanzo non riesco a capire se è un giallo se è un mare o un thriller dalla trama ho visto che ci sono anche delle problematiche ambientali che erano successe negli anni 90 alla fine del secolo scorso relative al polo petrolchimico di Porto Marghera però francamente darmi una definizione di che genere sia così dalla trama che ho letto dal libro non so proprio dirlo penso che l'ufficio stampa mi abbia contattato perché fa parte dei nostri generi non lo so comunque Arcadia quella casa editrice che lo pubblica quindi molto riconoscibile che ha sempre questo fascione in mezzo con il titolo il nome molto riconoscibile è una casa editrice molto 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 in gamba che seleziona veramente dei grandi scrittori e penso che se non è del genere sarà comunque una gradevolissima lettura e questo è il secondo romanzo secondo non lo so poi l'ordine glielo do mentre leggo di sicuro so qual è l'ultimo che leggerò nel mese di luglio e c'è una motivazione che spiegherò durante la presentazione del mese di luglio altro romanzo che aspettavo poverina è stata scavallata da Fred Vargas ma per lei che è un'amante di Fred Vargas è stato un grande onore però è una mia cara amica e ci tenevo a leggerlo e quindi non posso esimermi in questo mese di luglio dove Fred Vargas è già stata sfangata leggere lei questo mese leggeremo quindi Commedia Giallo con Gatto Nero di Serena Vendito edito da Mondadori però non come i suoi altri precedenti romanzi edito nella collana Giallo Mondadori qui siamo tornati in un giallo molto più leggero è un giallo possiamo definirlo come struttura classico che si ispira ai gialli classici ma come scrittura come gusto come impronta è molto ironico è la storia di questi quattro inquilini che finalmente non sappiamo ancora come sono però finalmente iniziamo a vederne le forme questi quattro inquilini che si trovano a una festa di matrimonio e questa festa di matrimonio si trasforma in un set di un omicidio quindi quattro inquilini più uno di Via Atri si ritrovano a dover indagare nuovamente su un omicidio a capo di questa indagine ci sarà sicuramente Malou che penso che sia lei affiancata da Ariel la traduttrice di Romanzi Rosa con Samuel il fidanzato di Ariel diciamo così e il giapponese Cobb che è veramente esilarante e qui abbiamo il gatto famoso gatto che è il quinto inquilino di Via Atri 36 a Napoli e che ci dà tante tante soddisfazioni sono dei romanzi veramente leggeri da leggere ma molto molto intensi e devo dire che la trama gialla Serena Venditto la sa veramente gestire perché lei è una lettrice è una frequentatrice della Golden Age quindi io penso che lei di moderno abbia letto ben poco se non solo romanzi della Golden Age e quindi lei riesce a trasportare tutta l'esperienza delle sue letture nella sua scrittura poi ve ne parlerò sicuramente sul sito seguite comunque tutti i social e avrete anche voi notizie di questo romanzo questo è il penultimo romanzo di luglio ultimo romanzo di luglio e non potevo non leggere che un grande classico voglio leggere un romanzo che è stato pubblicato nel 1868 nel periodico inglese All the Year Round un periodico inglese dove la direzione non c'era niente popopopo popopopo di meno che Charles Dickens è stato pubblicato a puntate e stiamo parlando della Pietra di Luna di Wilkie Collins edito da fazzi è un romanzo che voglio leggere a parte perché fa parte di quelle pietre migliari questo è il poliziesco dopo edgar alain po questo è veramente un capostipite è stato inserito nella lista dei 100 migliori gialli letterari quindi un libro che noi amanti del giallo non possiamo non leggere ma la cosa che mi interessava di più leggere in questo romanzo perché poi ne farò una puntata speciale di cose che non molti sanno tra parentesi forse perché non fregano a nessuno farò una puntata speciale di la pietra di luna contro versus casa desolata di chas dickens perché si dice si dice si racconta questa cosa non molti la sanno va bene un po la cazzata si dice si racconta che il personaggio dell'ispettore di wilkie collins sia ispirato all'ispettore di casa desolata di chas dickens quindi mi piacerebbe molto vedere come il l'allievo si comporta nei confronti del maestro quindi non mi resta che che leggere 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 perché qua se non leggo continua a fare delle tba che poi non hanno le recensioni comunque in quattro romanzi molto particolari è il primo un vero thriller il secondo non lo so poi due gialli classici uno scritto oggi quindi con la contemporaneità di oggi e l'altro invece con ancora quel sapore ottocentesco che tanto ci piace a noi lettori della golden age voi cosa leggete durante questo mese di luglio avete già preparato la valigia per le vacanze state partendo in vacanza cosa avete nella vostra valigia di libri leggete su kindle leggete su cartaceo ditemi raccontatemi ditemi tutto quello che fate io intanto vi aspetto per la prossima tba nel mese di agosto e quella cercherò di farla un po prima grazie e buona vita a tutti e tante 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 letture ciao